Ciao, sono Flavio, uno skipper qui dell'Alto Adriatico, lavoro su Lignano, La Tisana, Caorle e questa zona qui e sto riscontrando una usanza che da parecchi anni va avanti, il fatto di rilasciare patenti nautiche a persone che fanno un corso molto breve di uno o due giorni, sicuramente una patente non presa qui nelle nostre zone e sono patenti che vengono rilasciate da altre agenzie. Questo comporta un grave pericolo per la navigazione, pericoli importanti sono appunto il fatto che le persone non conoscendo le precedenze creano continuamente dei pericoli che sono le collisioni, che sono gli a bordi in mare, che sono gli ingressi nei porti, non sapere come ormeggiare una barca, non sapere come fare un ancoraggio e quindi sono tutti fattori che portano sicuramente a pericoli non solo della vita ma anche delle imbarcazioni.